Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Come al solito anche se il mercato sembra noioso io vi cerco quelle chicche, quei farm, quelle defi, quelle cose insomma che vale la pena sapere perché appunto anche quando il mercato è noioso le opportunità nelle cripto non mancano. In questo periodo non sto tradando, sarà tre mesi che non apro una posizione, forse anche di più, perché altcoin veramente insulse, bitcoin è fermo, non viene voglia di shortare, non viene voglia nemmeno di aprire posizioni long, per fortuna c'è un po' di defi che ti permette di impegnare il tuo tempo e sbizzarrirti, ci sono dei farm su Solana molto interessanti, Polygon come sempre dà tantissime soddisfazioni e io ve le condivido ogni volta perché secondo me, ripeto, le opportunità di questi mesi dove uno magari ha anche voglia di andare in vacanza, non guardare i grafici, non star sul pezzissimo ogni minuto, ogni secondo, si deposita magari su un bel pool di stablecoin, ci si rilassa al mare e via, si ottiene un po' di rendita pure su quello. E quindi come potete vedere dalla densità delle tab aperte sul mio browser, anche oggi qualcosa ve lo mostro. Detto questo, io volevo partire, per fare giusto un intro, una panoramica su quello che sta accadendo, dal grafico settimanale di bitcoin, che purtroppo non lascia ben sperare assolutamente nulla. Se fino alla settimana scorsa, perché, cioè, guardate, questa è la candela che ha un po' peggiorato la situazione, se non esistesse questa candela, vedete che anche sul settimanale quei segni, quelle impronte di accumulazione le vedevamo, cioè è un, tutto sommato, tutto sommato, questa zona è un'area di liquidità in domanda abbastanza significativa. Tuttavia, la settimana che è appena terminata ha sancito, pam, il bucare quell'area, il perdere il supporto sui 34.600, che era quest'area, questa zona di prezzo che faceva appunto da sostegno sotto la quale c'era la liquidità in domanda, pam, come un coltello nel burro, l'abbiamo bucata, ma proprio perché c'è una forza di gravità in questo momento. Guardate anche i volumi, sono fiacchissimi, è una perdita di un livello chiave accompagnato da volumi pressoché inesistenti, quindi non viene nemmeno voglia, ripeto, di operare su nemmeno short, cioè io me ne sto a guardare, l'unico modo, cioè l'unico piglio che avrei per aprire una posizione short appunto di copertura sarebbe stato il ritorno qui, quindi un colpo di reni che va a ritestare la liquidità in zona 42-44, se non ci arriviamo pace, pace, non aprirò lo short di copertura, non è mai morto nessuno, io sono bullish sul lungo termine, sono qui per il lungo termine, continuo con i miei ribilanciamenti che comunque mi equilibrano il portafoglio e basta, ci vediamo tra qualche anno e sicuramente saremo contenti. Detto questo, la price action continua, ripeto, a essere negativa, bearish anche su time frame settimanale e al momento su time frame settimanale il supporto che sembra essere il prossimo, sul giornaliero ce n'è anche qualcun altro in mezzo, ma sul settimanale i 20.000 è quello che sembra essere appunto il primo supporto un po' consistente con delle aree di prezzo che potrebbero ostacolare un eventuale dump. C'è da dire che non abbiamo ancora attaccato la zona proprio di minimo locale, la zona dove è concentrata immagino la liquidità in stop di chi ha aperto posizioni long, che si trova poco sopra i 28.000, quindi quella sarà un po' la prova del 9.000. Se di nuovo attaccata quella zona la domanda si dovesse far sentire e ci dovesse rispedire qui dentro, sopra al livello perso, quello sarebbe un bel setup long. Stiamo a vedere. Maggiori dettagli sui grafici e sulla price action verso la fine della live, adesso come al solito carrellata di notizie e di pillole e poi la parola passa a voi, quindi mi raccomando siate carichi, siate sul pezzo perché essere, cioè il fatto che siate qui, oggi siete anche in abbastanza, siete in 700, siete qui a luglio, il 20 di luglio, con il mercato in queste condizioni, ragazzi voi farete strada, ricordatevelo perché questo è l'approccio giusto. Allora, iniziamo con le aste delle parachain di Kusama che continuano, nel frattempo c'è la quinta asta, come sapete ogni giro c'è uno slot di parachain in paglio, il primo è stato vinto da Karura, il secondo da Moonriver, il terzo da Shiden Network, il quarto da Fala Network e adesso c'è il quinto. I partecipanti all'asta per questo quinto slot sono Crust Shadow, Sakura, Bifrost, che è una, forse è l'unica che conosco, è una sorta di, perché mi ricordo che l'avevo utilizzato per lo staking di Ethereum 2.0, ne avevo parlato, comunque è una sorta di liquidità cross-chain, anche quello. Genshiro, Robonomics, ragazzi non ne conosco una ve lo giuro, sono veramente indietro con le parachain di Kusama, Altair e Basilisk e come funziona? Banalmente chi vince l'asta si aggiudica lo slot. Come fanno a vincere l'asta? C'è il Crowd Sale, Crowd Funding, non so nemmeno come chiamarlo, dove chiunque di noi può andare a dirgli, guarda io ti presto i miei KSM, così tu hai più fondi per partecipare all'asta, però in cambio chiaramente te sganci i token. I KSM non si pagano ma si vincolano per un tot di tempo e come è mostrato in questa infografica, che è molto carina, quello che accade è che se, vedete, l'asta viene persa, esempio, voi andate a dare i fondi a Bifrost, Bifrost perde, alla fine vi vengono sbloccati e ve li ribeccate, mentre se Bifrost vince l'asta per lo slot, vengono vincolati i vostri KSM e in cambio ottenete i token di Bifrost, secondo il tasso di emissione che hanno deciso loro e il tempo di bonding, quindi di vincolo, che hanno deciso loro. Vi lo volevo solo dire perché qui va avanti e quindi se qualcuno di voi è interessato ad avere una quota di questi progetti nascenti su Kusama, sappiate che c'è, anche se nessuno ne parla, il mercato è silente, questo esiste. Poi ho letto questa interessante analisi, Glassnode ogni settimana butta fuori questo The Week on Chain, che è un appuntamento appunto che va ad analizzare i principali parametri on chain. Io non sono un fan dell'analisi on chain, però secondo me è interessante perché comunque è una prospettiva diversa dai soliti grafici del prezzo e quindi io me la leggo, me la guardo perché comunque degli spunti di riflessione li dà. In particolare è pazzesco come l'on chain è molto bullish in questo periodo. Ad esempio, eccolo qua, dagli exchange stanno uscendo continuamente Bitcoin. C'era una parte, una fase tra maggio, metà maggio, inizio luglio soprattutto, in realtà già a fine giugno si stava esaurendo quella fase, una fase in cui moltissimi Bitcoin sono entrati sugli exchange. Guardate l'inflow netto medio e poi da luglio in poi, cioè la fase di noia, diciamo, si è di nuovo invertita questa tendenza e la tendenza media è sempre di fuoriuscita, il flusso è di uscita. E questo è un parametro positivo proprio perché la selling pressure teoricamente dovrebbe diminuire. I miner stanno riniziando ad accumulare, anche loro, come potete vedere, da un paio di settimane hanno ricominciato ad accumulare. Poi, cos'altro c'era di interessante? Eccola qua, la supply liquida e illiquida, che mostra di fatto la liquidità disponibile sul mercato e il fatto che dipende fortemente anche questo dalla supply sugli exchange, perché più supply c'è sugli exchange di Bitcoin e più è facile scambiarli, sono disponibili sul mercato, sono liquidi per l'appunto. E al momento c'è di nuovo un incremento della supply illiquida, quindi l'opposto di quella liquida, meno pressione di vendita e di conseguenza si parla di accumulazione, proprio perché c'è una tendenza a detenere Bitcoin. Vi condivido anche questo perché è, secondo me, appunto, magari uno spunto di riflessione, una visione parallela, anzi perpendicolare, perché è differente dalla solita analisi di prezzo, che è tremendamente bearish, questo invece è molto bullish. Anche le cosiddette huddle waves, che mostrano la distribuzione dei Bitcoin tra i detentori di lungo termine, di medio termine, quelli invece che sono soltanto qua per speculare, quindi fanno tante operazioni nel breve, e sostanzialmente le young coins, che sono quelle un po' più, come vi dicevo, con un turnover più alto, un po' più scambiate, stanno lasciando il posto ai detentori di più lungo termine. Quindi stanno un po' invecchiando quelle coin, come si suol dire, quindi stanno ferme lì dove sono. E anche questa è una tendenza che mostra che, vabbè, da un lato è abbastanza ovvia perché il mercato è paralizzato e non c'è spunto di operatività, dall'altra però mostra che c'è sempre questa tendenza un po' ad accumulare. Io ve la lascio lì, stiamo un po' a vedere. Andiamo invece alla DeFi. Parlando di DeFi abbiamo un po' di aggiornamenti. Vi volevo, visto che mi avete fatto molte domande, dopo che vi ho presentato Sabre, nelle scorse live, che è un curve su Solana, per capirci, sono dei pool con asset equivalenti, al medesimo prezzo, mi sta impazzendo, no? Ci siamo. Quindi, stablecoin, tutte uguali, delle versioni tokenizzate di Bitcoin, versioni tokenizzate di Luna, e adesso ne sono state aggiunte delle altre, motivo per cui ce l'ho ancora qui per aggiornarvi. Mi avete fatto molte domande su Solana, vi ha di nuovo incuriosito un po' la DeFi su Solana. Sono fin tentato, adesso ditemi voi di farci un video addirittura, delle migliori DeFi su Solana. È ancora immaturo, no, come mercato, perché siamo ancora sotto al miliardo di TVL complessivo nel mondo Solana, quindi se lo paragoniamo con Polygon, con la BSC e con Ethereum a maggior ragione, si parla veramente di un ambiente giovanissimo, però proprio per questo ci sono delle opportunità non indifferenti. Se guardate già qua, ad esempio, sulla coppia PBTC e RMBTC, abbiamo un 75%, c'è anche quella adesso della Wobi Ecochain, che è stata aggiunta recentemente, insomma, ci sono degli APY da non ignorare, che vale la pena non ignorare, e quindi facendo un piccolo recap, i migliori pool farm su Solana al momento, detto in brevissimo, abbiamo Mercurial Finance, che è un altro curve, va il tre pool classico, quindi le tre stable coin USDC, USDT e PAI. PAI, vi ricordo, è la stable coin su Solana, di Parrot, Party Parrot si chiama, l'applicazione che permette il mining di questa stable coin. Come si fa a fare il mining? Io vado a depositare degli USDC e vado a mintare, a creare dei PAI, che sono appunto queste stable coin sovracollateralizzate, poi volendo ci sono i Volt, che sono di fatto dei pool di liquidità, dove io posso andare a dare collaterale in una coin e ottenere l'altra, ok? Quindi io, come succede con MakerDAO, che io vado a dare collaterale e vado a contrarre un debito sotto forma di un'altra coin, su Parrot faccio lo stesso. Esempio, io posso andare a dare USDC e andare a prendere un debito in PAI, quindi prendere in prestito, aprire una posizione di debito. Alla fine, quando rivolrò indietro i miei USDC, vado a sanare il mio debito e mi riprendo, ridò i PAI e mi riprendo gli USDC. PBTC, che era un'incognita che avevo anch'io l'ultima volta, come vedete è la versione appunto solana e Parrot, perché è la pista proprio per Parrot, immagino, di Bitcoin e la si collateralizza sempre con USDC. L'unica collateralizzazione non stabile al momento è data da SOL e da SRM, che permettono entrambi di andare a ottenere un debito in PAI, quindi andare a ottenere dei PAI. Poi da qui li posso andare a utilizzare sia i PAI che i PBTC, che sono i due asset che posso andare a creare da Parrot. Li posso andare a utilizzare su Mercurial, perché posso andare a dare liquidità in PAI e ho un guadagno ulteriore, questo 7,2% è unicamente dedicato ai miner di PAI, quindi se io vado a dare solo USDC e USDT, per dire di liquidità, il mio IPY sarà del 7,31 più 2,40. Se vado a dare anche PAI, avrò il 7,2% in più, proprio per incentivare la crescita dell'ecosistema di questa stablecoin su Solana. Lo stesso vale su Saber, perché su Saber ho questo pool PBTC-RENBTC. L'unico modo per ottenere PBTC è utilizzare il pool stesso facendo uno swap, perché è esattamente come su Curve. Io qua posso anche swappare, quindi se ad esempio ho RENBTC, RENBTC, eccolo, io posso swapparlo per, dove sei? PBTC, direi. Eccolo, tac. E quindi vado a prenderne un po' di uno, un po' dell'altro e vado a dare liquidità nel pool se voglio detenere PBTC. Tra l'altro mi pare, se non erro, che in questi pool si possa dare anche liquidità di uno solo. Vediamo, uno, sì, mi pareva di sì. Adesso non riesco perché non ho il wallet connesso, ma se non erro, si può dare anche liquidità di uno solo. Poi mi sa che ti va a fare gli swapping automatico in certe situazioni, ma di fatto non cambia la tua esposizione perché rimani esposto solo a Bitcoin. E quindi su Sabre, di interessante che cosa abbiamo? Vabbè, tutti i vari pool che hanno comunque un APY molto valido. Andiamo a vedere i farm. Un APY del 23%, PIUSDC, 27% BTC, RENBTC, niente male. Vi ricordo che sono le versioni Solana di questi asset, quindi se voi avete dei BTC o dei RENBTC, li potete andare a wrappare su Solana o da FTX o da Wormall, mi pare che si chiami, il ponte che va verso Solana. UST, USDC, questa è una bomba, 37%, veramente interessante, non so quanto durerà, secondo me poco. Per gli holder di Luna abbiamo Wrapped Luna, REN Luna con il 130% di APY, veramente interessante anche questo. E poi abbiamo le ultime aggiunte, le versioni Wobi Ecochain, quindi HBTC, sempre accoppiato con RENBTC, e HUSD con USDC, con degli APY abbastanza alti. Soprattutto questo HBTC e RENBTC è veramente succoso, molto più alto della controparte normale. E poi c'è questo, USDK, USDC, se vi chiedete cos'è USDK, me lo sono chiesto anch'io, è la stablecoin di OKEX. Non la conoscevo ormai, ce ne sono una quantità industriale. 106% su un pool di stablecoin però. Vabbè, così, ve la lascio lì. Poi, guardate che cos'altro abbiamo di bello, visto che parliamo sempre di Terra, Luna, eccetera, eccetera. Oggi mi sono concentrato di più su Solana, non vi sto a scillare niente su Terra. Anche se avevo un paio di cose, vabbè, le condividiamo nei giorni seguenti, anche perché se no non ho più niente da dirvi. Guardate qua, allora, Unslashed Finance è un'altra assicurazione, tipo Nexus Mutual, per capirci. aspettate che vado sulla rete Ethereum con Metamask, eccoci qua. Allora, funziona esattamente come Nexus Mutual, ovvero, si va a acquistare la copertura, la polizza, chiamatela come volete, sulle varie Cefai, DeFi, insomma, su quello di cui si sta acquistando la polizza. Ad esempio, Binance, protezione sui fondi depositati, ad esempio, Harvest Finance, sull'integrità dello smart contract, Yorn Finance, idem. E la figata è che qua, ci sono una quantità industriale di, cioè, c'è una quantità industriale di liquidità. E poi, su ognuno di questi, di queste coperture, c'è un security score che non è male, è un punteggio di rischio, così, per sfizio, per conoscere un po' meglio il, l'applicazione, la piattaforma, se vi interessa. E come funziona? Facilissimo, perché si va a selezionare la copertura, si va a scegliere per quanto ci si vuole coprire, esempio, 100 ETH, e il premium è calcolato con il tasso, annualizzato, che vedete su premium price. Sono bassissimi, in confronto a Nexus Mutual, sono molto, molto, molto più bassi. Sono sempre su Ethereum. Il funzionamento è analogo, perché anche qua c'è il discorso del KYC e quant'altro. Vi sto dicendo tutto questo, perché c'è la protezione qua, dal PEG delle stable coin, USDT PEG e UST PEG. Questo è importante, perché cosa ci permette di fare? Se uno ha paura di dare capitale su terra, perché Anchor è rischioso, magari UST perde il PEG, è un timore che secondo me, cioè io non ho personalmente, ma lo capisco, se qualcuno ce lo può avere. E allora cosa si può fare? si può combinare due cose. Qui se non erro su Anchor, non c'è l'assicurazione. Fatemela cercare. Anchor, no, esatto. C'è su Nexus Mutual. Allora, facciamo così. Nexus Mutual, opla, e volevo solo farvi vedere al volo questa cosa. Anchor Protocol, guardatelo qui, al 2,60%, unslashed sul PEG di UST all'1,5%, io pago 2,60% più 1,5% all'anno e ottengo il 20%. E sono coperto. Zero rischi dal de-PEG e dallo smart contract. Che dire? Si va a erodere un minimo l'APY ottenuto da Anchor, ma si ha la totale sicurezza sul rendimento. Cioè, è una cosa senza precedenti, forse, avere un rendimento del genere coperto al 100%, sia dal de-PEG che dallo smart contract, però è sicuramente molto molto interessante, soprattutto per chi vuole andare a impegnare un capitale di un certo tipo. Lo capisco benissimo. Dal 20% si riduce al 17,16 e qualcosa, ma totale copertura. E quindi volevo condividervelo, perché mi pare una cosa interessante. Poi, Dinoswap, questo l'ho trovato smanettando un po' su Twitter, come faccio di solito la mattina. Ho detto, cos'è sta porcata? È un altro, uno scam gigantesco, ciclopico. Poi mi sono informato un po' e ho visto che ci sono dietro un po' di venture capital. E quindi ho detto, vabbè, di sicuro non è a basso rischio, perché, insomma, mi sembra un po' esotico, però, cioè, ci hanno investito dietro, ripeto, un po' di venture capital, che di solito significa che non è un rug pull, non è uno scam, perlomeno. e quindi ve ne parlo, sempre considerando un livello di rischio un po' più alto del solito. Allora, qui ci sono i fossil farm, li hanno chiamati, che sostanzialmente sono dei banali farm, dei pool, dove si va a farmare la coin Dino, e ci sono, al momento è pompatissimo, sono raddoppiati, tra dieci ore si dimezzano, in sostanza, e poi ci saranno dei programmi di liquidity mining variabili. Interessante è USDC MIMATIC, che è un pool di stablecoin, e se no ci sono dei pool un po' esotici, tipo Dino, USDC, oppure, cosa abbiamo, con Define, c'è quello in partnership con Define, Matic e TH, con un APR non esageratamente alto, per il rischio che ha, e niente, e poi ci sono gli extinction pools, che di fatto si va a mettere, è una copia di Pancake Swap, per capirci, vai a mettere dentro i Dino, e farmi questi vari token, e basta. Ecco, c'era un'altra cosa che vi volevo dire, prima che mi dimentichi, aspettate che ve la vado a prendere, perché è super super interessante, dov'è il link? Me l'ero salvato da qualche parte, aveva a che fare con Terra. Allora, aspettate che vado a recuperarlo dalla cronologia, vediamo se ce l'ho, aspettate, abbiate pazienza, ma era una nuova piattaforma di ICO su Terra, di vendite iniziali, dove la vendita iniziale, la si ottiene, cioè il token, lo si ottiene non acquistandolo, eccolo qua, l'ho trovato, allora, Pylon, eccolo qua, Pylon Money, il token che viene venduto, lo si ottiene non acquistandolo direttamente, ma vincolando liquidità, guardate, allora, al momento c'è la sua coin, che si chiama MINE, di Pylon, e funziona così, se volete partecipare, ci sono tre pool, all'interno dei quali si può mettere UST, quindi si parte con la stable coin UST, e si può andarla a mettere in questi tre pool, tre alternative, la prima, la più easy, sei mesi di vincolo, e le ricompense si ritirano inizialmente dopo tre mesi, e abbiamo un 72% di APR in token MINE, con un valore, se non erro, di 10 centesimi, stimato al momento del token MINE, l'avevo letto da qualche parte, pool 2, 12 mesi di vesting, quindi il doppio, e sei mesi da aspettare per recuperare le ricompense, quindi a partire da adesso, sei mesi, e poi si possono iniziare a prelevare i token MINE, pool 1, 18 mesi e 9 mesi di attesa, API, APR, scusate, più alto, la cosa interessante è che, vabbè, io non ho, ho solo un opportunity cost, perché io vado a depositare UST, lo vincolo lì, non lo posso usare in altro modo, tipo su Anchor, per ottenere la rendita, però ottengo la rendita in token MINE, quindi posso, volendo utilizzare, avere in futuro, l'investimento su Pylon, che, insomma, se ne parla, nella community di Terra, se ne parla abbastanza bene, c'è abbastanza hype, e poi c'è un, l'LP, il pool di liquidità, MINE, UST, che al momento, ha il 233% di APR, quindi, da quando si può iniziare, a ottenere le ricompense in MINE, le si può andare poi, o a vendere, a dampare, oppure a depositare, all'interno di questo pool, e, niente, quindi, questo era ciò che vi volevo dire, è una piattaforma di crowdfunding, su Terra, con, al suo interno, anzi, in partnership, con un, un automatic market maker, quindi con un DEX, che si chiama Loop, Loop Protocol, una roba del genere, fanno questi, pool di liquidità, per i progetti appena lanciati, ve l'ho detto, la cosa interessante, è che c'è solo, l'opportunity cost di vincolo, di UST, quindi non ti perde valore, è solo vincolato lì, per tot mesi, e in cambio, ricevi il, il token nuovo, su, ad esempio, sulle IFO di PancakeSwap, era una cosa simile, ma dovevi andare a mettere liquidità, su alcuni pool volatili, e poi parte di quel pool, ti veniva prelevato, in questo caso, invece, assolutamente no, molto, molto interessante, soprattutto, se poi, avrà un certo impatto, e una certa crescita, poi, DinoSwap, era tutto qua, in realtà, ve l'ho già mostrato, quindi, i classici farm, oppure, i pool, dove metti Dino, e ottieni queste coin, clamorosamente esotiche, tranne di Fine, forse è l'unica, le altre, non ho veramente idea, di che cosa, questa è quella di McAfee, mica, mamma mia, e comunque, ci sono dietro i venture capital, quindi, ve l'ho presentato, solo per questo, se vi va di buttarci un occhio, ed è su, Polygon, quindi, la blockchain è Polygon, ultima cosa, vi faccio la mia scillata periodica, di BitCashback, perché, in questo periodo di bear market, secondo me, non c'è niente di più bello, che accumulare qualche bitcoin, facendo acquisti online, BitCashback è una piattaforma, che vi permette, facendo acquisti online, direttamente, da alcuni e-commerce, come Unie, Euro, Media World, e tanti altri, la figata, tra l'altro, ve lo dicevo, perché adesso c'è il 30% in più, di cashback, su sport e viaggi, quindi, se dovete prenotarvi la vacanza, già i cashback sui viaggi, sono molto validi, perché, se andate a vedere, la categoria viaggi, ci sono tipo booking, simili, che spingono abbastanza, con i cashback, e adesso c'è il più 30%, fino a questa domenica, quindi, è il momento giusto, per prenotare la vacanza, l'acquisto, lo si fa direttamente, sugli e-commerce in questione, quindi, su questo sito, non ci lasciate nessun dato, non pagate niente, non vi dovete preoccupare, della sua sicurezza, la registrazione è velocissima, senza KYC, senza niente, e il cashback vi viene pagato in bitcoin, quindi, adesso che il prezzo di bitcoin è basso, ci sta, secondo me, andare ad accumularne qualcuno, senza neanche comprarlo, col cashback diretto, e via, che si va, e, che altro vi volevo dire, che potete anche farla a combo, se avete la Binance Card, o la Crypto.com, andate a prenotare la vacanza, tramite BitCashback, su Booking, eccetera, con la Crypto.com, avete il cashback, di BitCashback, e della Crypto.com, e via, che si accumula, pronti al prossimo, Bull Market, io vi lascio il link, nella descrizione, per chi mi seguirà su YouTube, lasciatemi anche un like, che mi gaso veramente tanto, e per gli amici di Twitch, invece, ve la piazzo subito, tac, in chat, un bel copy paste, ed è tutta vostra, e ora, è il vostro turno, amici miei, siate carichi, siate sul pezzo, perché leggo le vostre domande. Tengo il grafico giornaliero, di Bitcoin, come memento, qui dietro, ahimè, sta andando proprio a minacciare, anche sul giornaliero, la nostra, il nostro doppio minimo, mannaggia, o non vuole, cioè, è veramente, veramente, in preda all'offerta. Allora, turno vostro, domande, domande, andiamo, siamo qui perché, le candele rosse, non ci spaventano, bravi, come approccio, è da stupidi, di aprire dei trade speculativi, di pochi giorni, con collaterale cripto, per accumulare le coin stesse, di un 4-5%, tipo i future coin M, di Binance. Allora, no, non è una cosa stupida, però, attenzione ai trade, cioè, bisogna azzeccarli trade, no? Quindi, in una situazione di mercato, come questa, dove c'è un po' da spostarsi, per forza di cose, sull'intraday, il rischio, è un pelino più alto, però, ovviamente, se uno è un trader intraday, pro e quant'altro, chiaramente è il massimo dei massimi. Poi, 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 si è capito a cosa serve il token di coin 98? Guarda, non ho ancora studiato, mea culpa, me lo sono segnato, tra l'altro, qua, sul mio taccuino, ma, non ho ancora studiato, ho studiato le DeFi su Solana, in questi giorni, e ci sono un po' impazzito dietro. Domandozza, ma sai che è successo a Dash? Dash, esiste ancora, che è schizzato? Io lo mino, e quindi ero curioso di sapere. Allora, non ne ho la più pallida idea, però andiamo a vedere. Dash, BTC, tac, oddio, non ne ho veramente idea, cioè, non capisco qual è il motivo di questo pump, in un'ora, tra l'altro, iper localizzato, e quanto ha pumpato, tra l'altro? Ha pumpato del 60%, ma, devo berci su. Non me lo so spiegare, non ho veramente idea della ragione, e andiamo a vedere su Twitter, se qualcuno dice qualcosa, vediamo, Dash, io di solito faccio così, quando, tac, quando vedo qualcosa, cioè, quando voglio cercare qualcosa, vado a cercarlo su Twitter, con il dollaro davanti, che è come se fosse un hashtag, però, vediamo Latest, vediamo se c'è qualcosa, bah, qua dicono solo che è Bullish, è Bullish, 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 ma fondamentali, non lo so, non mi sembra di vederne, ditemi voi, se qualcuno di voi ne sa qualcosa, si faccia avanti, e basta, e condivida, torniamo su Bitcoin, noi nel frattempo, e via con le domande, poi, basta, troppi layer 2, sto impazzendo, sì, è un delirio, ma ci sarà pure Optimism, che inizierà a tirare piattaforme DeFi, e via, aspettiamo l'evento BeWorld il 21 luglio, potrebbe risalire da lì, è vero, il 21 luglio, c'è Elon Musk, che parlerà, con Jack Dorsey di Twitter, il founder di Twitter, allora, guardate, tra l'altro, perché, aspettate che vi condivido il link, BeWorld, in sostanza è un evento, organizzato appunto da Jack Dorsey, con vari, insomma, copartecipatori, coorganizzatori, e hanno invitato un po' le personalità di spicco, in primis i Bitcoiner, come Catty Wood, che è un investitore, abbastanza spesso, verso Bitcoin, Arch Invest è il suo fondo, e poi altre personalità, e guardate, c'è anche il buon vecchio Elon Musk, che parlerà, quindi sono tutti un po' curiosi, di quello che accadrà il 21 di luglio, che è dopo domani, e quindi ci si può registrare, per ascoltarlo, se non erro, è direttamente su Twitter, non lo so, vabbè, comunque ci si può registrare, e sarà alle 18, se non ricordo male, mercoledì 21 luglio, alle ore 18, quindi attenzione al 21 di luglio, perché potrebbero succedere cose interessanti, a seconda di come si sveglia Elon Musk, e cosa gli viene in mente da dire, sono veramente curioso, poi, secondo te conviene trasferire un po' di liquidità da Binance, per spostarla a rendere su Celsius, dipende, dipende, se la vuoi mettere a rendita, assolutamente sì, io ho un po' di liquidità su Celsius a rendita, e non solo, perché in questo periodo, ve l'ho detto, è il massimo la rendita sulle piattaforme DeFi e SeFi, proprio perché il mercato è, non dà tanti spunti operativi, Luca, ma come mai non parli più di Cardano, c'è qualcosa da dire, non lo so, ditemelo voi, ditemelo voi, MDEX al terzo posto nella classifica su DeFi Station, che ne pensi? Ma guarda, MDEX è interessante, MDEX è valido, cioè è un, come si chiama, un DEX, sia su Wobby Ecochain, che su Binance Smart Chain, la parte su Binance Smart Chain rende un pelino meno di quella su Wobby Ecochain, però è una piattaforma valida, è una piattaforma valida, ma i Luna vrappati su Saber non me li fa vrappare neanche con UST? Allora, attenzione che gli swap su Saber si possono fare solo tra i due asset nel pool, non è che puoi ad esempio swapare Luna con UST o viceversa, perché è come su Curve, per capirci, che puoi fare gli swap soltanto tra le stable o tra gli asset all'interno di un pool. Ciao Luke, fareste un video sui progetti più interessanti per area, tipo gaming, DeFi, Cefai, eccetera, in ottica di differenziazione dell'investimento? Ma guarda, quasi quasi, sul gaming ero interessato, DeFi e Cefai ormai, dai, ve le ho fatte vedere un po' tutte, no? Ho paura poi di esagerare, cioè di parlare troppo dello stesso topic, e quindi adesso devo pensare a che, video fare di ricerca, i prossimi video sulla ricerca, quindi pensavo di analizzare magari qualche altro progetto, adesso vediamo, vediamo, ci penserò. Ciao Luke, ancora non mi sento sicuro per la DeFi, potresti fare un video per newbie, dove spieghi passo passo cosa fare, e degli esempi pratici? Con i tuoi video ho imparato perfettamente a usare il margine su Binance, ero chiarissimi, ovviamente ho già divorato i video sui rischi, bravo, perché i rischi sono importantissimi da comprendere, per la DeFi, io ti consiglio, per partire, allora, a parte che ho fatto adesso alcune playlist proprio, di, guarda, aspetta che ci arriviamo, pack, pack, il tuo canale, allora, se tu vedi qui le playlist, ho fatto, ne ho fatta una DeFi, rendite passive su Bitcoin e cripto, se tu vai a cercare quello sulla Binance Smart Chain, che dovrei averlo messo anche qui, se non ce l'ho messo, lo vado a mettere subito, ma se cerchi Binance Smart Chain, c'è un tutorial passo passo, con Pancake Swap, utilizzo Pancake Swap, e c'è proprio gli step, cioè di trasferire su Metamask, di mettere liquidità, proprio fatti concretamente, non solo detti a parole, e secondo me è un buon modo per, per iniziare a capire operativamente, come si utilizza la DeFi stessa, poi c'è tutto un topic di rischi, di rendimenti, e lì poi ci sono gli altri video che ho fatto, ok, quindi puoi, puoi partire da lì comunque, e poi farmi le domande, ovviamente se hai dei dubbi o domande, siamo sempre qua, allora, 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 ma i Luna Vrappati, eh, esatto, non te li fa suappare, perché su Saber lo suop è soltanto all'interno dei pool, quindi asset 1, asset 2, questi inciampi che sta avendo Binance, in questo periodo ti preoccupano, che inciampi la cosa dei regolatori, no, non mi preoccupano, secondo me è un bene, meglio prima che dopo, altra domandozza, sai se c'è un modo di farsi promozione, per vendere NFT, ne ho creati di stupendi, su OpenSea, ma c'è troppa concorrenza, e non li visualizza nessuno, guarda, ti direi quasi di, eh, come si può fare, per vendere, cioè promozione, è difficile, perché c'è da crearsi il personaggio, c'è da creare, da farsi un po' conoscere alla fine, è tutta una cosa social, per farsi promozione, non lo so, se ci sono delle piattaforme particolari, oppure no, Choluk, mi piacerebbe molto, se riuscissi a dare un'occhiata, a Olympus DAO, una reserve coin, controllata da una DAO, che sta offrendo i PY pazzeschi, c'è da approfondire, allora, andiamo a darci, un occhio volante, Olympus DAO, eccolo qua, allora, dunque, 60 milioni di, 16 per, ma cos'è una, una stable coin, è una stable coin beccata da qualcosa, OM, OM FRAX, FRAX è mica la stable coin frazionata, anche quella, devo approfondire, stake bond, sì, sento d'ordi signoraggio, devo approfondire, anche perché qui leggo rebase, a me non piacciono molto, quelle coin con il rebase, quindi tipo, per capire, cioè tipo basis cash, quelle lì, aspetto, aspetto a pronunciarmi, l'approfondirò, l'approfondirò, Luke, ripetiamo come usare unslashed, non mi sono esattamente chiare, le tre formule proposte, e le differenze operative, più immediata, capital buckets, meno asset management, che è, guarda, in sostanza, su unslashed, io prima ne parlavo, unslashed finance, eccolo, prima ne parlavo, per l'acquisto di una copertura assicurativa, ma non è l'unica cosa, che si può fare, perché, get covered, ti fa, in sostanza, ti permette, di andarti a coprire, da qualche inconveniente, un'assicurazione, supply capital, tu vai a dare liquidità, all'interno dei pool, quindi, tu puoi dare liquidità, ad esempio, alle varie assicurazioni, banalmente, ok, esempio, UST PEG, supply, puoi andare a dare, della, della liquidità, del capitale, il problema è che adesso, l'APR è bassissimo, pressoché nullo, proprio perché, il costo era dell'1,5%, una roba del genere, altrimenti, c'è questo capital buckets, che vanno a dare, vai a dare capitale, a dei pool diversificati, in particolare, ci sono, puoi vedere i dettagli, vai a dare liquidità, all'interno di tutte queste coperture, che vedi qui dentro, e in cambio, tu ottieni un APY, del 14,5%, dicendo, però attenzione, perché tu, prendi un rischio, perché, tu fai da assicuratore, l'assicuratore, si prende il rischio, dell'assicurato, in cambio, poi del premio, quindi questo è l'altro lato, della, cioè l'altro lato dell'assicurazione, tu compri l'assicurazione, ti proteggi dal rischio, tu vai a dare capitale, ti vai ad assorbire il rischio, di chi acquista l'assicurazione, ma ricevi il premio, che viene pagato, questi sono i due lati, di unslashed, poi, se non rialza neanche dopo, che Elon ne parla bene il 21, allora mi sa che va a 20k, speriamo che ne parli bene, a sto punto, cioè, pensa te, se, dobbiamo star qui, a sperare che quel matto, ne parli bene, cioè, siamo veramente arrivati a un livello, sto vedendo molti amici, che aderiscono a schemi ponzi assurdi, puoi fare una serie di video anti scam, sarebbe d'aiuto a molti, ma sai qual è il problema, che non ti ascoltano, cioè, a me è capitato di persone, che mi hanno chiesto, cosa ne pensi di x, y, z in privato, anche io, gli ho risposto, gli ho detto, guardi, io starei molto attento, perché ha le caratteristiche di un ponzi, e cercavano di convincermi del contrario, cioè, mi volevano quasi tirare dentro, io ho detto, vabbè, amico mio, se chi è a causa del suo mal, pianga a se stesso, io ti do la mia opinione, perché me l'hai chiesta, ma poi tu sei una persona libera, siamo nati liberi, libertà di azione, quindi, se uno vuole buttare via il suo capitale, affari suoi, quindi ci ho rinunciato, perché poi, se fai un video dove avvisi di questa cosa, avevo scritto anche dei post su Telegram, uno dice, no, non ti informi, studia di più, questo paga sempre, io ho ritirato, ragazzi, io non so cosa farci, ci sarà la selezione naturale, la stangata, un nuovo BitConnect, tanti nuovi BitConnect, del solito durante i bear market, tra l'altro, è laddove il rischio si massimizza, e poi impareranno a loro spese, alla fine, l'unico modo per imparare, è a perdere dei soldi, in questo mondo qua, poi, l'evento è composto solo da persone, che supportano Bitcoin, penso che se ne parlerà bene, ma guarda, se ne parlerà bene, lato altre persone, lui dirà la sua, se dovesse parlarne male, spero che sia almeno aperto al confronto, e ascolti, dai, cioè, perlomeno, dunque, cosa ne pensi di un'esposizione su crypto, al 100%, PS sono un ventenne, 50% BTC e TH, e il resto al coin, mamma mia, guarda, è una scelta tua, alla fine, io non sono qui per darti consigli, su come investire, e non lo posso neanche fare, io non lo farei, nel senso, io vedo le crypto come un mercato molto volatile, ad alto rischio, e di conseguenza mi ci espongo in maniera contenuta, ho una buona parte di cuscinetto di liquidità nel mio portafoglio, proprio per ammortizzare, no, quelle che sono le fluttuazioni, tu hai 20 anni, è vero, hai una tolleranza al rischio molto alta, e quindi puoi dire, vabbè, io mi espongo in questo modo, sappi che comunque, ti stai esponendo a un rischio di un certo tipo, soprattutto, con metà del portafoglio in altcoin, non so se avete notato il mio orologio invisibile, tra l'altro, molto bello, ogni volta che alzo la mano, e mi vedo nella videocamera, lo noto, veramente, veramente bello, e col bear market, ho venduto l'orologio, e quindi, adesso ho questo, Ciao Luca, cos'hai deciso alla fine sull'investimento su Terra? Ma io al momento su Terra sono esposto, su Anchor, con buona parte delle stablecoin, ce le ho su Anchor ormai, cioè, veramente tante, ho diminuito l'esposizione su molte altre DeFi, per alloccarmi su Anchor, e poi, sto giocando un po' con il farm, long più short, su Mirror, quello di cui parlavo nel video, proprio su Terra, long e short, delta neutral, su, 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 sull'etf, sull'oro tokenizzato su Mirror, e sono messo lì, poi, speriamo in una botta di culo il 21, sto solo aspettando cosa succede, ma ho le idee chiare, si potrebbe andare long volatility il 21, fare uno, no, com'è che si, strangle o straddle, sulle opzioni comunque, proprio aspettandoci una, una botta, poi, 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 come fosse un cash and carry su Mirror, ma più che cash and carry è un, cioè vai a farmare, perché tu hai l'APY long e short, e sei delta neutral, quindi sei neutrale, e non sei esposto, hai solo l'esposizione all'impermanent loss, che vabbè, è abbastanza trascurabile su tutto, io sono in accumulo hard da mesi, ci sta, ci sta, ci sta, guarda, meglio accumulare, che, che, che fare panic selling, in queste situazioni, poi, eh, guardavo il grafico, la sensazione che atterreremo sui 29k, spero che non la rompa, in caso contrario, sangue sparso a destra, a sinistra, e anche secondo me, ne vedremo, ne vedremo, mamma mia, Dino Swap, cioè, Dino Swap, tra l'altro, l'ha fatto mio cugino di 12 anni, esatto, 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 cioè, veramente, non lo so, io quando l'ho visto ho detto, boh, l'ennesimo rug pull, l'ennesima fuffa, però ci sono dietro i venture capital, quindi, bah, ragazzi, non fate l'errore di aspettare il pump del 21, qualsiasi cosa dica Elon, il mercato sconterà tutto già prima, al massimo può solo dampare per qualche cazzata che dice, e, guarda, ehm, sai cosa succede? Io credo anch'io che il mercato sconti spesso le notizie già prima, ma lì c'è una componente di incertezza, cioè, non si sa, magari arriva lì e dice, bene, da domani Tesla riaccetta, BTC, e allora pompa, o magari arriva lì e dice, Bitcoin fa schifo, è ancora peggio di prima, inquina ancora di più, non lo userò mai più, e così via, allora dampa, quindi, è difficile scontare quelle cose, no? E quindi, ripeto, ehm, c'è la componente di imprevedibilità. Se fosse il discorso dell'AP 1559, ad esempio, di Ethereum, che ormai, ogni giorno su Twitter, vedo, mancano 12 giorni, mancano, è quello sì che è già scontato, e lì c'è un rischio di sell the news poi, e quindi, occhio. Comunque, vediamo un attimo, Pilo sta dando anche un bel po' di airdrop per tutti gli staker di Luna, è vero, è vero, è vero, è vero, chi stake a Luna ha l'airdrop, quello è un classicone degli staker di Luna, è una delle cose belle, appunto, di Luna stesso, fantastico. Poi, potresti, no, perché non fai un bel video su Dot? L'avevo fatto, una vita fa l'avevo fatto, cioè, c'è il video su Polkadot, e anche sui progetti migliori, è un po' vecchiotto, però, rimangono validi quei progetti lì. Poi, adesso è il momento di andare a leggere due graficozzi, allora, ci riprovo, conosci per caso la piattaforma di Flash Loan Multichain, che dovrebbe uscire a fine luglio? Ci manca solo quella? Flash Loan a destra e a sinistra, così povero Pancake Bunny, deve chiudere, no, non la conosco comunque, ci devo dare un occhio. Luca Point Pay, lo hai mai sentito come progetto? L'ho sentito, perché me lo chiedete ogni due per tre, ma non l'ho mai approfondito. Non l'ho mai approfondito, assolutamente. Allora, ciao Luca, ho una domanda sull'oro, in realtà due. Numero uno, ha senso avere una percentuale di oro esattamente uguale a BTC nel portafoglio complessivo, e a seguire nel ribilanciamento mensile, facendo seguire entrambi lo stesso andamento? Allora, io ho molto meno oro che BTC, sinceramente, lì dipende un po' da come vuoi modellare il tuo portafoglio. L'oro è un po', ha una componente, un po' di bene rifugio, e un po' di anti-inflazione, tendenzialmente. Quando performa male il dollaro, e anche l'azionario, di solito performa un po' meglio Bitcoin, è un po' decorrelato, alla fine si tratta, quel poco che puoi diversificare, lo fai. E quindi io ho oro e argento, li utilizzo a quello scopo. E io ho meno oro che Bitcoin, ma perché io voglio essere più esposto a Bitcoin? È una scelta di investimento quella, semplicemente. Tu per oro hai in parte, ho in toto PaxG, io sì, ho in toto, assolutamente, 100% PaxGold, che in molte piattaforme c'è fai, ti permettono di avere interesse. Esatto, ad esempio il, come si chiama, il, mamma mia, non mi viene il nome, Crypto.com, ecco ce l'ho fatta, che dà un ottimo rendimento su PaxGold. D'altro io ne approfitto, adesso amici, vi ringrazio voi che vi state abbonando al canale, vi ricordo che con Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente, utilizzando l'integrazione tra Amazon Prime e Twitch. Da Amazon è semplicissimo, si associa il profilo a Twitch, avete Twitch, non so, Amazon Prime Gaming, si chiama una roba del genere, e avete un abbonamento al mese gratuito, dovete rinnovarlo ogni mese però. E io vi ringrazio di cuore, perché veramente è un modo per sostenermi per voi a costo zero. E ringrazio anche chi ogni tanto fa le piccole donazioni. Qua sotto c'è il, se andate nel menu sotto a Twitch, con la grafica atroce che dovrei modificare e aggiornare, c'è anche il tasto donazione, potete farmi appunto una piccola donazione, e offrirmi un caffè o un aperitivo, no, scherzo. Allora, 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 l'oro è da dinosauri, non fare il boomer, è vero? Però dai, un po' d'oro secondo me, cioè, a me non dispiace come asset, io un po' lo detengo volentieri. Potresti fare un video con esempi teorici sulle combo DeFi, cacchio, ne ho fatti mille mila però, di video sulla DeFi, Ormai la DeFi credo che, pensavo che vi uscisse anche dalle orecchie, e non ne poteste più. Qualche volta uno mi ha detto, e basta sta DeFi, non se ne può più, parla di qualcos'altro. E allora ho detto, vabbè, in effetti non ha tutti i torti. Allora, allora, cosa succede a Binance? Penso niente, cosa sta succedendo? Ma lo staking di luna su terra, non ti sembra poco conveniente? Fi per delegare e un delegare. Ci sono delle fi, sì, per, e un po' di commissioni, tra l'altro, del validatore. Però, ci sono anche un bel po' di vantaggi. È una cosa pensata più per il lungo periodo, non per il, per fare avanti e indietro, ecco. Allora, amici miei, è il momento, di andare a vedere due grafici, anche con time frame più breve. Partendo da Bitcoin, allora, Bitcoin, oggi, ci ha fatto questo scherzone qua, di andare a dampare, un attimino, sotto, i 31.500, che era il doppio minimo in chiusura, che avevamo fatto il 22 di giugno, quindi un po' di settimane fa, un mesetto fa, quasi. Al momento era il minimo locale, quindi c'è il rischio lower low, in altre parole. Vediamo adesso come chiude, e come reagiamo, perché abbiamo due reazioni da tirare fuori. La prima è la reazione alla chiusura in lower low, come vi dicevo. Finora, non c'è stato verso di andare a fare degli higher low, la tendenza è sempre questa, e finché c'è abbiamo un retrogusto ribassista. Retrogusto ribassista, che però è in preda alla gravità, come vi accennavo all'inizio, perché ci sono volumi piattissimi, cioè non sono quei bam, quei mega dump direzionali, come può essere questo qua, no? Dove c'erano candele su candele, volumi crescenti, e direzionalità a bomba ribassista. No, adesso abbiamo dei lower low, cioè minimi, perché di fatto abbiamo un meno poco per cento, tra un low e l'altro, volumi inesistenti, non è una direzionalità che mi viene voglia di andarci ad operare sopra, in altre parole. E quindi io me ne sto a guardare, come vi accennavo poco fa, e soprattutto controllo, per andare a cercare il long, perché quando c'è una caduta libera in preda alla gravità, senza appunto direzionalità, non appena vedo un po' di reazione dall'altra parte, esempio, io vado a chiudere qui, e la domanda entra in gioco, dà un bel colpo, e me lo riporta all'interno del, cioè a recuperare i vecchi low. Allora lì mi viene voglia di andare ad aprire il long sul reclaim, con lo stop loss, poi sotto all'ultimo low appena fatto, proprio perché insomma c'è un minimo di direzionalità, e di inversione di tendenza, perché se dai lower low si passa a un higher low, e soprattutto se un po' di volumi tornano in gioco, non sarebbe affatto male. L'altra cosa che mi piacerebbe appunto andare a pescare qua su, però ci manca ancora un bel po' di tempo. Per il momento l'altra reazione, oltre alla chiusura in lower low, che mi piacerebbe vedere per capirci una cosa così, quindi esempio chiudiamo qua domani e rimaniamo fermi ancora qui, e poi pam, una candela verde di reazione, il che vuol dire che c'è ancora domanda. L'altra cosa è all'interno, appena sotto scusate queste shadow, quindi i low assoluti in zona 28-29 mila, se andiamo ad attaccare proprio lì, a provocare il mercato, andiamo a vedere se c'è liquidità in domanda, che si fa viva, e va a spingere a rialzo. Quello non sarebbe affatto male, perché sarebbe un altro bel segno. Se andiamo a pescare da lì, e andiamo a fare un bel reclaim qua sopra, e beh dai, io quasi quasi long ce lo vado a piazzare. Quindi vedo questa opportunità long. Cercare lo short non mi viene voglia, perché è un mercato spento, adirezionale, quindi per andare a cercare una posizione, voglio un piglio, un po' di volumi, un po' di vita, di vitalità, di trader che operano, che vanno ad aprire posizioni. Non il mercato che sprofonda come un sasso che cade nell'acqua. Quindi se abbiamo un bel piglio rialzista, che va a prendere addirittura qua, io vado a cercare lo short di copertura, perché il macro rimane bearish. Attenzione, non confondiamoci. Io metto in secondo piano, quella che è la lettura on chain, che per me è in secondo piano, e il time frame giornaliero. In primo piano c'è il time frame settimanale, che, penso di non dovervelo nemmeno ricordare, è ancora bearish. Soprattutto abbiamo questa zona di vuoto, qua dentro, che se ce l'andiamo a retestare, non mi dispiace andare a coprirmi un attimino. Vediamo cosa succede. E poi, ecco, un'altra cosa potenzialmente interessante, dunque, la ricerca dei long, sul chiusura, più reclaim in seguito, ricerca di long, sull'eventuale sweep, più reclaim in seguito. Questi sono i setup che seguo, e lo short di copertura, basta in realtà, perché altrimenti, per me, siamo ancora in lateralità. Nonostante abbiamo questo canale ribassista, in vigore, quindi, teoricamente, potremmo andare a puntare, proprio in zona, estremo basso della liquidità, adesso. Nonostante questo, io, me ne sto a guardare. Non è il momento, secondo me, di affrettare trading. in una situazione a volumi scarsi, volatilità scarsa, estate, io preferisco farmare, ve lo dico veramente, con tutta la sincerità del mondo. Altcoin, non ne parliamo, perché in questo momento, tutte quante, stanno performando, malissimo, malissimissimo, e nessuna esclusa, la dominance, non so perché, è piatta, nonostante, tutte le altcoin, oggi sono in negativo, forse perché, TH Bitcoin, non è in negativo, ed è l'unica che pesa un attimino di più, però, non, cioè, ripeto, non, non c'è niente di interessante, non c'è veramente niente di interessante, e, basta, questo è, per quanto riguarda i grafici, anche perché, ripeto, di altcoin, di setup interessanti, non ce ne sono, possiamo vedere BNB, le principali, che, sono sempre in forse, cioè, hanno sempre questi andamenti, pseudo accumulativi, però, non confermati, con volumi morti, piatti, quindi, andare anche a prendere, posizioni di anticipo, è, è un rischio, non indifferente, e, quindi, o si mette uno stop loss, bello deciso, oppure, si evita, perché, altrimenti, ci si trova, veramente, con un rischio, di una sassata, se, immaginatevi, Bitcoin, che dampa fino a 20.000, le altcoin, cosa possono combinare, lì sì, che magari, poi, vale la pena, andare a grattare, qualcosina, però, prima di allora, il rischio è notevole, anche perché, storicamente, quelle correzioni, belle forti, hanno sempre avuto, due impulsi ribassisti, quindi, pam, pam, al momento, abbiamo fatto il primo, abbiamo lateralizzato, e quindi, teoricamente, mancherebbe la capitolazione definitiva, anche se voi andate a vedere, ad esempio, il 2017, non qui, perché, non c'è il, aspettate, XBT, USD, andiamolo a riprendere da qua, che c'è più storico, vedete, nelle vecchie, nelle vecchie situazioni, di bear market, abbiamo sempre, il primo dump, poi, la lateralità, e la capitolazione, poi si riparte, anche qua, vabbè, no, qua in realtà, era un'altra leg down, che però, è stata anche qui, uno, ricupero, capitolazione, e poi si è ripartiti, vedete, storicamente, ci sono sempre, due impulsi ribassisti, quanto si, quando si corregge, e quindi, mi viene da chiedermi, sarà un setup simile, anche questo, ovvero, vado a fare, impulso, lateralità, capitolazione, e poi ripartiamo, ai posteri, largo, sentenza, detto questo, amici, io vi ringrazio, davvero di cuore, per avermi seguito, spero che, siate sempre, interessati, ai miei contenuti, e spero che, siate sempre, anche gasati, perché ragazzi, noi, settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, rimaniamo sempre sul pezzo, ci aggiorniamo, con le novità, mercato noioso, andiamo a vedere i farm, vediamo la DeFi, come si evolve, vediamo le opportunità, che ci sono, e, e basta, quindi, c'è sempre qualcosa, da imparare, e adesso, che non c'è più, da impazzire, dietro alla shitcoin del giorno, o ai per dieci del giorno, io sto veramente, ne sto approfittando da matti, per studiare, e vi consiglio di fare lo stesso, vi auguro davvero, una buona serata, noi ci rivediamo, mercoledì, alla stessa ora, 18.30, vi faccio un carissimo saluto, e alla prossima, un'estate, una spda, e, per da,